ciao ragazze ciao a tutti e a tutti nuovo video outfit barra make up project pen oggi questi capelli fanno un po' calare ma vabbè allora questo video è un video outfit per vedere un po' come sono vestita oggi speriamo che il telefono tiene il telefono allora questo è il mio pantaleggings come potete ben vedere questa è la mia maglia che ho già indosso da un bel po' appena riparcio la doccia ovviamente mi ricambio di nuovo comunque niente non è solo mi lavo e mi lavo ragazzi stiamo scherzando no mi lavo sempre comunque a parte di iscriversi questa è la mia maglia che mi ha messo oggi il mio outfit e un attimo solo questa è la mia borsa che potete ben vedere con dentro le mie cosine c'è portafoglio ma benciorale ce l'ho per bloccare altro e questa è la mia bella borsa potete ben vedere eccola qui portafoglio c'è dentro qua questo è il mio portafoglio vedete vabbè dentro c'è dei campioncini delle specchiette cose varie che non sto qua è lenta di troppo e vabbè si chiude così come avete visto tac tac e poi niente infralito non so se si vede ma eccoli qui quindi infralito dove gli accessori sono gli stessi l'occhiale questo mio occhiale sono non ci vedo un tubo una mazza questa è la vostra mia tracolla allora si può portare sia a spalla che appunto a tracolla a spalla mi viene male però la portate a tracolla perché è troppo comoda e continua bene così poi peraltro secondo vi faccio vedere il make up adesso come trucco ho fatto allora il trucco non è nulla di che però il trucco voleva essere una cosa basic basic come Dio la si voglia chiamare e dunque allora ho usato questa mattita qui se la trovo della L'Oreal eccola qua L'Oreal con la mina retraibile e il pettinino ecco qua vedete si poi il gel fissante della Douglas molto buono poi come correttore utilizzato questo della Maybelline che è cancelletta questo si vedrà qualcosa si con la spugnetta che poi fate clic 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 e poi la potete utilizzare non è tanto igienica ma pazienza meno male che la uso solo io ok vedete già poi ho utilizzato con i miei pennellocci che sono di là l'illuminante e poi la terra che ci prima la terra poi blush e l'illuminante la mia terra che sto bronzer che sto terminando e poi 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 mascara l'ho evitato perché tanto non mi andava ho utilizzato l'illuminante e il blush ecco qua questo blush che mi sto trovando a Dio molto bello molto colorato se ne vedete troppo rischiate effetto mascherone cioè effetto come dire è veramente pagliaccio e non mi sta bene quindi ho utilizzato solamente questo blush ovviamente sbattendo l'eccesso di questo e poi della Makeup Revolution ho utilizzato questo qua questo qua della appunto Highlighter Makeup Revolution eccolo qua vedete non so cosa si possa mai vedere da qui ah che non sono contro luce via fortuna però questo è quanto poi burro cacao e ciao proprio lì niente di che ora questa la rimetto in dovera cioè nella suo posto e anche questa la metto di qua così ogni volta che voglio truccare non faccio cavole varie poi vabbè a parte questo avete visto tutto no allora oggi facciamo il caso che sono uscita un bel po' a fare tante compre ma più che per fare compre è andare al cimitero a trovare mia mamma mia mamma e mio nonno e sì e poi alla fine come dire dopo che abbiamo fatto un po' di preghiere al cimitero da mia mamma e mio nonno siamo passati in panetteria una panetteria andando vicino al cimitero un po' chilometri più in là abbiamo preso una focaccia per me perché io sono golosissima di focaccia e ho preso la focaccia poi incontrando nel centro turistico no centro turistico storico di centro scusate centro storico di palau ho contratto mia madrina da lì ho detto perché non andare a casa sua e così abbiamo fatto un sì un incontro con le amiche sue per andare cioè non per andare che sto dicendo oggi vabbè non faccio il caso sono un po' stanca si sta lasciatelo passare però queste girate lungo e largo me l'ho fatta un po' stancare ma però devo dimagrire quindi ci sta che mi stanco un po' e niente già peso 75 kg non so se ve l'ho detto si peso 75 kg quindi devo anche un po' dimagrire e niente vi dicevo sono come dire sono andata a casa mia madrina perché anzi prima a casa mia madrina abbiamo già un mostro di focaccia ho bevuto un succo di frutta alla pesca per non ricordo cosa fosse comunque poco in poco rilevante poi sono andata a casa della mia cugina della cugina di mia madrina per e da lì abbiamo fatto una consulenza di bellezza non vi dico di cosa perché tanto consulenza di bellezza di marchi mai visti o mai conosciuti forse qualcuno le conosce non faccio il nome perché non lo so però pare che questo prodotto sia molto buono e molto molto testato sulla pelle molto buono clinicamente testato così dire biologico e bla 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 direi non so dire di che cosa perché io non conosco certi prodotti mai visti mai sentiti però così comunque senza soffermarmi troppo su quello che ho visto oggi e ascoltato soprattutto sentito consultire sentito dire oltre che a guardate eccetera le ho anche testate sulla mia pelle sono tutti i prodotti però però niente non le ho presi perché non le ho ordinate niente aspettate perché c'è la telecamera che mi sta andando via quindi ciao proprio questa è l'enziata che provo a registrare questo video e non ci riesco perché un po' l'audio se ne si abbassa un po' questo telefono fa un po' i capriccetti ma io non ho l'intenzione di cambiare il telefono finché non vanno proprio a salutarmi cioè finché non fanno più nessuna lavoro nessuna funzione e va bene ah please perdonatevi se sentite rumori sottofondo come il televisore per mia nonna ahimè ha 80 anni passati suonati e ci sente quello che sente quindi scusatemi tanto ma è così è che ah oggi se vedete il telefono non so se dice verticale orizzontale o una cosa del genere non me la prendete male però oggi sono stanca non è una scusa ma mi andavo di provare questa nuova dimensione di video anche se mi vedrete un po' pazienza mi andavo di fare un video così per oggi mi sa che ne fanno un altro anche così lo stesso ma vabbè pazienza e niente ragazzi questo era tutto dopo questo video ne farò un altro sui prodotti che ho qua dietro che non si vedono però ci sono sui prodotti terminati beauty beauty sì mi sembra di sì non mi ricordo bene io tutta la volta che c'è un video beauty non mi ricordo mai cosa cosa ho terminato e cosa no però vabbè dettagli come si suol dire bacio ragazzi ciao mettete un pollicello in su se mi va pollicello in su un commento attivate la campanella se vi iscriverete e per non perdere i prossimi video aggiornamento su mio canale youtube ciao bacio